We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do, we don't love anymore Lo studio di Avelina Sipala si occupa di assunzioni con agevolazioni e non, dai piccoli produttori agricoli ai grossi commercianti. Per attivazione di rocini formativi, rapporti di apprendistato, lavoro occasionale intermittente, tempo determinato e indeterminato, rivolgi dallo studio consulenza del lavoro Avelina Sipala, dove trovi massima serietà e professionalità. Ricordati, la formazione fa la differenza. Ci potete trovare a Palagonia in via Roma 27, ci puoi contattare al numero 095-795-5806 oppure al 348-41-20-032. Affida dei professionisti del settore, scegli lo studio Sipala. Affida dei professionisti del settore, scegli lo studio Sipala.